Che fai, mi cacci! Che tempo che fa, Al Pacino contro Fazio, è successo tutto in diretta. La puntata di ieri sera del programma in onda su Discovery ha regalato momenti di grande emozione e intrattenimento, con ospiti di eccezione che hanno arricchito il palinsesto del programma. Tra i protagonisti spiccava la presenza del leggendario attore Al Pacino, che ha colto l'occasione per presentare la sua prima autobiografia, Sonny Boy, pubblicata il 15 ottobre. Questo libro rappresenta un viaggio attraverso la sua straordinaria carriera, dai suoi inizi nel Bronx fino ai ruoli iconici che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, come Michael Corleone nel Padrino e Tony Montana in Scarface. Dopo Pacino, si è esibito anche Tananai, che ha presentato il suo nuovo album Calmo Cobra, uscito il 18 ottobre. La sua partecipazione ha portato un tocco di freschezza musicale alla serata, con l'artista pronto a lanciarsi in un tour che promette di entusiasmare i fan in tutta Italia. Prima di arrivare al momento di tensione tra Fazio e Al Pacino, c'è stato un altro momento significativo. Un segmento del programma infatti è stato dedicato al centenario della nascita di Mike Buongiorno, una figura fondamentale della televisione italiana. In studio erano presenti Daniela Zuccoli Buongiorno, moglie del celebre conduttore, e Valentina Romani, che interpreta il ruolo di Daniela nella nuova miniserie Mike, in onda su Rai 1. La serata non si è limitata solo al cinema e alla musica, anche il regista Gabriele Muccino ha avuto spazio per discutere del suo nuovo film fino alla fine, presentato recentemente alla Festa del Cinema di Roma. La varietà degli ospiti ha dimostrato ancora una volta la capacità di Fazio di mescolare cultura, arte e intrattenimento in un format coinvolgente. Ma c'è stato un attimo di tensione quando, durante l'intervista ad Al Pacino, Fazio blocca il famoso attore e dice, adesso è domenica e da lei è ora di pranzo, tra poco la lascio così va a pranzare. L'uomo allora dice, ah, grazie, è un modo gentilissimo per darmi una pedata e sbattermi fuori dal programma. E ancora, no, va bene, probabilmente non c'è più tempo. Ma quando inizio a parlare, poi è difficile farmi smettere. Ma vi voglio bene Italia. Fazio ci è rimasto visibilmente malissimo, o quantomeno si è molto imbarazzato, e ha invitato l'attore in studio, la prossima volta. Al Pacino allora risponde, si vengo, spero proprio di venire. Grazie per avermi ascoltato, mi sarebbe davvero piaciuto essere di persona con voi.